Il mio nome è Matteo Bertoni, ho 27 anni e ho studiato come meccanico all'ingegnere a Parma Università. Dopo una corta esperienza in una firma, ho deciso di prendere l'opportunità di inserire la prima edizione di Comao Master in Industria Automazione. La mia decisione è vero a due miei fatti. La prima è che una firma potrebbe darmi l'opportunità di entrare nel mercato di automazione mondiale. La seconda è che ero consciente della mia scelta di competenze in manufattura. Ora, dopo due anni, ho confermato che le mie aspettazioni sono stati completamente satisfezioni. Comao è un integratore di sistema globale in industria automotiva, consistente di diverse uniti di business. Ho stato inserito alla unità di business power train system, più esattamente nella ricerca e sviluppo per l'Assemblea. Io ho preso parte nel sviluppo di un sistema di assemblazione standard. Questo sistema consiste in un'automatica per la assemblazione flessibile di engine, trasmissioni e, in generale, componenti automotivi. L'innovazione di questi prodotti è legato nel fatto che le competenze principali e i know-how della firma, robotiche e meccaniche, sono utilizzate insieme. Sono stato involucrato in questo progetto dal primo passo del sviluppo prodotto fino alla installazione dei planti clienti. Inizialmente definiamo le funzioni principali come la modularità, l'integrazione dell'elettrico, la sicurezza e la riduzione dell'installazione. Il secondo passo era la generazione di un concetto specifico, in modo di verificare la complianza con i requerimenti dei prodotti. Poi abbiamo iniziato la fase di engineering, consistente nel design e la simulazione della macchina. Poi abbiamo iniziato, testato e validato un prototipo che è ora un prodotto standard, già installato in diversi planti clienti. Questo risultato è, per me, una grande soddisfazione. Per concludere, vorrei raccomandare questo maesterno ai studenti, perché è una esperienza molto interessante e professionale per i studenti, che vogliono aumentare le competenze, con una implicazione di un'implicazione prima in realità in manufattura. delle studenti e Immagini in realità in realità in realità in realità. Grazie a tutti.